Se volete modificare i colori di una fotografia in maniera completamente indipendente rispetto agli altri che sono presenti nello scatto, siete nel video giusto. Vediamo una funzionalità particolare del TMPanel di Gaspere Silvere, vi lascio nel box info del video il link che rimanda al sito web dove Gaspere vende questo fantastico strumento. La foto su cui lavoreremo oggi è la seguente, io voglio lavorare sui singoli colori che sono presenti all'interno della fotografia e come posso fare? Semplicemente aprendo il TMPanel e cliccando sulla funzionalità HSL Pro sotto il pannello Boost Color. Alla fine del processo che Photoshop esegue si aprirà una singola finestra all'interno del nostro software di postproduzione. Questa finestra comprende al suo interno tutta una serie di slider divisi o meglio suddivise per ogni singolo colore, infatti abbiamo il red, green, blu e così via. Abbiamo poi la funzionalità preview per vedere un prima e un dopo di quello che stiamo facendo. Di primo acchito la modifica potrà sembrarvi molto forte, invasiva e di fatto lo è, però la logica che sta dietro questa finestra è che noi possiamo selezionare ogni colore e modificarlo in maniera singola e indipendente rispetto agli altri. Quindi andiamo a deselezionare tutti i colori che sono presenti all'interno della nostra foto e quindi riotteniamo la nostra foto di partenza. Volendo lavorare in prima battuta sul cielo dovrò sicuramente abilitare il giallo, che quindi mi consente di andare a lavorare in maniera proprio precisa su tutti i gialli della foto, quindi sul cielo e sui riflessi che ho ovviamente nell'acqua, su diversi aspetti. Quindi la tonalità dei miei gialli, la saturazione, la parte che fa riferimento alle luci, ai mezzi toni, alle ombre e poi una mascheratura che serve appunto per smorzare l'effetto che io vo' ad applicare a tutti i gialli presenti all'interno della foto. Quando parliamo di tonalità, di un colore, tendenzialmente stiamo parlando della possibilità che abbiamo di variare appunto le tonalità, la hue, passare quindi da un giallo per esempio a un verde oppure ad un arancione, a un viola e così via. Vediamo come lavora il TMPanel, quindi sapendo benissimo che i gialli si trovano in maniera preponderante nel mio cielo, posso andare ad aumentare la tonalità e ottenere per esempio un verde nel mio cielo oppure in maniera estrema muovo la slider dalla parte opposta e ottenere un viola. Ovviamente queste sono delle modifiche estreme, ripeto, quindi noi quello che dobbiamo fare è trasformare questo giallo presente nel cielo in un piccolo arancione, diciamo in una tonalità più arancione dei miei gialli. Quindi io vado a spostare la slider verso sinistra in maniera proprio millimetrica, in maniera tale da non andare a fare modifiche di questo tipo dove il giallo si trasforma in rosso. Quindi io vado a prendere dei valori che stanno diciamo al massimo in meno 8, meno 10, non di più e ottengo, vediamo un prima e un dopo, un giallo molto più arancione rispetto a prima. Quindi riesco a trasformare il mio tramonto. Posso aumentare anche la saturazione che adesso si trova a 50 punti di default ma la potrei mettere ad esempio a 100 punti e quindi ottenere sicuramente un arancione molto più forte all'interno del mio cielo. Questo non è quello che desidero, io voglio ottenere un arancione sicuramente più di impatto rispetto ai 50 punti ma senza esagerare, quindi 60 punti secondo me possono essere l'ideale. Vado ad abbassare la slider delle luci per rendere un po' più diciamo attivo questo arancione, riesco a vederlo meglio se vado a togliere della luminosità al mio cielo. Questo è il classico esempio di un light a meno 50, questo è il classico esempio invece di un light a più 50, quindi vado proprio a giocare sulla luminosità delle singole zone della mia fotografia. Ripeto io vado a muovere la slider verso sinistra di meno 20. Passando poi invece ai mezzi toni e alle ombre io posso agire anche in questo caso diciamo schiarendo leggermente i mezzi toni e andando a schiarire leggermente le ombre. Posso eventualmente mascherare i singoli colori per andare a smorzare gli effetti, questo ne è un classico esempio, un prima e un dopo, vedete sono molto più smorzati i colori rispetto ad avere una mascheratura a zero, però diciamo in questo caso io preferisco ottenere un effetto abbastanza marcato e quindi lascio la mask a zero. Vado invece a lavorare poi sui rossi, quindi abilito i rossi, cerco di aumentare leggermente la saturazione e soprattutto vado a spostare verso sinistra la slider delle light e la slider dei mezzi toni. In questo modo, vado a mascherare leggermente e ottengo questo risultato. Posso anche andare a lavorare sul blu in maniera tale da diminuire la saturazione che si trova soprattutto nella parte centrale della mia fotografia, un prima e un dopo per quanto riguarda i blu e soprattutto vado a aumentare la slider del dark, la slider dei mezzi toni e vado ad abbassare la slider delle luci. In questo modo, vado ancora a diminuire la saturazione, quindi vedete posso lavorare in maniera singola e indipendente sui vari colori. Facciamo un apply giusto a scopo dimostrativo e la foto di partenza era la seguente. Dopo aver utilizzato HSL Pro il risultato è questo, quindi abbiamo lavorato sui singoli colori in maniera completamente indipendente ed il risultato è abbastanza naturale. Possiamo eventualmente anche abbassare l'opacità, per esempio, al 50% e quindi ottenere un qualcosa di più smorzato e che si amalgama meglio con tutta la nostra fotografia. Questa era la funzionalità HSL Pro del TMPanel di Gaspar e Silveri. Vi ripeto, trovate tutti i link nel box info del video per il pannello e anche per i miei social network. Se non mi conoscete, sono Emanuele, seguitemi su YouTube, quindi iscrivetevi al canale, oppure su Facebook alla pagina Emanuele Brilli Photoshop & Photography, oppure sul mio sito web PhotoshopTutorial.it, su Instagram e su tutti gli altri social che trovate nel box info del video. Ci vediamo come sempre al prossimo video di Photoshop, fotografia e lightroom. Ciao!